signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e anche questa settimana come avevamo già detto andremo avanti a parlare dei piani malvagi dell'antagonista o dell'organizzazione antagonista della vostra campagna abbiamo detto che il piano malvagio che gli antagonisti organizzeranno è estremamente importante perché fornirà letteralmente il canovaccio per quella che sarà l'intera linea narrativa principale della storia che porterete al tavolo nel caso vi siete persi lo scorso video come ne parlavamo ve lo lascio linkato qua in alto andatelo a recuperare perché questa settimana andremo avanti di nuovo su quell'argomento ovviamente quale sia nello specifico questo piano malvagio all'interno della vostra storia dipende dai temi dai toni anche proprio da quale sia lo specifico png antagonista o ipng antagonisti che avete inserito quindi fare una lista omnicomprensiva non solo sarebbe impossibile ma alla fine sarebbe uno spreco di tempo inutile perché ci sarebbe sempre qualcosa di diverso e ogni singola quest ha delle sue specifiche caratteristiche però come esempi questa settimana portiamo due estremi ideologici di quelli che potrebbe essere lo stile del piano malvagio del vostro antagonista e andremo a vedere non solo perché siano importanti per la storia ma anche come siano un ottimo modo per caratterizzare proprio l'antagonista della quest abbiamo detto più volte che l'antagonista principale della campagna dovrebbe essere il png più strutturato della quest proprio per il fatto che essendo lui l'antagonista principale quali siano le sue motivazioni e in linea generale chi sia lui è estremamente importante non solo per renderlo un personaggio più credibile per i giocatori ma anche nell'interesse dei personaggi stessi sapere molto bene con chi hanno a che fare il problema principale però è che difficilmente l'antagonista principale gli eroi passeranno così tanto tempo al bar a farsi una birra e a scambiarsi racconti anzi probabilmente l'unica volta in cui gli eroi e l'antagonista si troveranno assieme nella stessa stanza lo faranno per cercare di uccidersi a vicenda e normalmente gli eroi vinceranno quindi le possibilità per l'antagonista di esprimere direttamente il suo personaggio ai personaggi giocanti diventano abbastanza rare per questo motivo tutte le informazioni sull'antagonista o almeno la maggior parte di esse dovranno essere fornite ai giocatori in maniera indiretta o facendo parlare dei png che per un motivo o per l'altro lo conoscono ci hanno avuto a che fare che possano raccontare la loro esperienza ai giocatori o in maniera ancora più generale tramite le azioni e le conseguenze che quelle azioni avranno sul mondo di gioco fatte proprio dall'antagonista e dalla sua organizzazione malvagia in questo caso specifico questa settimana parleremo proprio del grande piano malvagio che l'antagonista metterà in moto in base a quale tipo di personaggio sia quale sia l'ideale che lo muove e quali sono le sue caratteristiche in linea generale l'antagonista metterà in gioco un piano malvagio diverso e come ho detto all'inizio e come avete visto anche dal titolo per rappresentarli tutti andremo a vedere quali sono i due estremi che questi due piani potrebbero assumere all'interno del vostro gioco il piano di Thanos e il gambetto di Xanatos in base a che tipo di personaggio sia l'antagonista e quali siano le sue motivazioni e le sue abilità metterà in gioco un piano diverso come ho detto le possibilità sono virtualmente infinite ma per fare degli esempi significativi andremo a vedere i due possibili opposti ideologici che questi tipi di piani potrebbero manifestare all'interno del vostro mondo di gioco come ho detto all'inizio come ha visto dal titolo il piano di Thanos e il gambetto di Xanatos Thanos è un cattivo con cui immagino abbiate già familiarità nella sua ultima incarnazione per la saga dell'infinito dell'MCU è stato interpretato da George Broling travestito da Bruce Willis dipinto di viola ora per quanto la sua versione a fumetti sia molto più complessa e nelle varie incarnazioni che ha avuto nel corso degli anni le sue motivazioni siano anche cambiate prendiamo in esame solo la sua versione cinematografica in quella versione il piano di Thanos prevedeva di creare una piramide di sottoposti in modo da utilizzare questi individui scelti appositamente per essere persone abbastanza instabili e far loro recuperare le cinque pietre magiche di Shannara grazie alle quali Thanos avrebbe ottenuto il potere assoluto sull'universo e sulla materia e usando quel potere lui avrebbe potuto trasformare metà della popolazione dell'universo in polvere per prevenire tutte le guerre e le carestie che la sovrappopolazione relativa a mancanza di risorse avrebbe causato una personcina veramente a modo ora da questo piano noi possiamo ricavare due elementi che potrebbero essere estremamente rilevanti in un'ipotetica quest che vogliate portare al tavolo in cui Thanos o un personaggio equivalente sia il signore del male il primo è che Thanos fondamentalmente è un idealista tutto quello che lui lo sta facendo lo sta facendo perché dal suo punto di vista quella è effettivamente un'azione positiva sfoltire la popolazione per evitare sofferenza in futuro è la cosa migliore da fare perché l'alternativa sarebbe sicuramente peggio e a mali estremi estremi rimedi Thanos non sta cercando il potere personale anzi lui ne è già fin troppo per quello che vuole fare la seconda è che ovviamente Thanos è fuori di testa e fuso col botto e scopiato col fischio più semplicemente Thanos è pazzo ammettendo anche che fosse armato le migliori intenzioni per quello che abbiamo potuto vedere nella saga cinematografica nessuno ha mai fatto riferimento a un problema di sovrappopolazione o di mancanza di risorse tranne Thanos stesso riferendosi al suo pianeta latale questo ci fa pensare che in realtà non sia un problema per l'universo ma sia una idiosincrasia un'ossessione dello stesso Thanos che deriva dai suoi problemi personali e che non si rispecchi effettivamente nella realtà e al di là di questo una volta ottenuto il controllo sulla vita l'universo e tutto quanto sicuramente c'erano modalità di azioni molto migliori poteva aumentare le risorse poteva raddoppiare l'universo un sacco di nerd hanno speso un sacco di parole su internet per spiegare perché il piano di Thanos non era il miglior piano del mondo ma molto spesso sfuggiva questo elemento il piano di Thanos non ha senso perché non è previsto che il piano di Thanos abbia senso Thanos è pazzo tutto questo lo rende un ottimo candidato per essere un possibile signore del male in una campagna la sua motivazione è palesemente errata e questo permette a qualunque sia il personaggio che uno dei giocatori abbia voluto portare al tavolo di avere un ottimo motivo per partecipare alla quest se Thanos uccide metà nella popolazione dell'universo ognuno dei giocatori al 50 per cento rischia di rimanerci e questo vale anche per tutti i loro amici parenti familiari vicini di casa coi baffi e quello che è quindi dal più nobile dei paladini al più infame dei necromanti hanno comunque tutti un interesse personale nel fermare il piano e nel collaborare attivamente assieme per farlo ma al dia di questo è evidente che il problema sia proprio Thanos quindi il modo migliore per fermarlo è quello semplicemente di cercare di raggiungerlo e poi mirare alla testa per risolvere il problema alla radice se Thanos il titano pazzo è una minaccia enorme e apocalittica che solo un gruppo di eroi può ergersi coraggiosamente ad affrontare di petto sul lato opposto della nostra scala abbiamo david sanatos sanatos è un po uno spartiacque generazionale perché probabilmente quelli della mia generazione se lo ricordano ma negli ultimi anni è caduto nel dimenticatoio david sanatos era l'antagonista principale della serie animata dei gargoyle interpretato da jonathan freakers che è il comandante riker non è rilevante per questo video ma metà del cast di next generation appariva in quel cartone animato non so perché sanatos non aveva particolari superpoteri non era un titano alieno virtualmente invincibile anzi era anche fisicamente in svantaggio rispetto agli eroi essendo in realtà una persona perfettamente normale era un imprenditore di grande successo non aveva particolari nobili ideali anzi quello che lui voleva fare era tessere trame per aumentare il suo potere personale ma quello che lo caratterizzava era proprio il modo in cui lui strutturava i suoi piani malvagi per opporsi a questi eroi che sulla carta erano molto più forti e abili di lui che prende appunto il suo nome il gambetto di xanatos un gambetto di xanatos detto nella maniera più semplice possibile è un piano che preveda una vittoria per chi lo ha ordito indipendentemente da quale sarà l'effettivo risultato del piano indipendentemente da come gli eroi reagiscano al piano malvagio il gambetto di xanatos prevede proprio che per chi l'ha ordito ci sia in qualche modo un ritorno un guadagno nella sua forma più basilare l'antagonista mette di fronte agli eroi una scelta tra fare due specifiche cose e indipendentemente da quale delle due cose gli eroi sceglieranno di fare in un modo o nell'altro l'antagonista guadagnerà dall'altra cosa il signore del male non attaccherà la capitale del regno attaccherà contemporaneamente due città sapendo che gli eroi non potranno essere in entrambe contemporaneamente e quindi indipendentemente da quale città sceglieranno di difendere lui conquisterà l'altra oppure gli eroi dovranno dividersi indebolendo i due gruppi e potenzialmente permettendogli di conquistare entrambe o in maniera più indiretta l'antagonista potrebbe lanciare un attacco contro la città sapendo che lì ci sono gli eroi usando una quantità di forze truppe poteri molto più alta di quella che sarebbe effettivamente necessaria in questo modo o lui riuscirà a sopraffare gli eroi e quindi conquistare la città o per sconfiggerlo i giocatori dovranno spendere così tante risorse da restare comunque indeboliti e quindi essere più facili da sconfiggere una volta successiva entrambe le scelte porteranno comunque un guadagno al signore del male e ovviamente un vero gambetto di xanatos è molto più complesso di così potrebbe prevedere vari piani contemporanei mosse contro mosse piani di contingenza nel caso i piani principali vadano male qual è l'incarnazione che assumerà all'interno della vostra campagna dipende da voi dai temi e dallo stile del tavolo ma normalmente l'impressione che i giocatori devono avere che sia effettivamente una macchinazione estremamente cervellotica se Thanos è una minaccia intrinseca che però è in grado di mettere d'accordo chiunque sul fatto che lui sia estremamente pericoloso e il modo per affrontarlo è quello di andarlo a prendere di petto e sconfiggerlo in combattimento xanatos è appunto l'esatto opposto lui non potrà probabilmente mai essere raggiunto direttamente dagli eroi a meno che non lo voglia esplicitamente avrà sempre comunque due o tre piani di fuga e piani di contingenza nel caso i suoi piani di fuga falliscano se Thanos rappresenta una minaccia intrinseca che è in grado di mettere d'accordo tutti e l'unico modo per affrontarlo e prenderlo di petto xanatos è un signore del male diametralmente opposto i cui continui schemi e la cui posizione ambigua potrebbe mettere a zizzani all'interno dello stesso party e che molto probabilmente sarà quasi impossibile per gli eroi affrontare direttamente dato che avrà un piano di fuga un piano di fuga di riserva e piani di contingenza nel caso questi piani di fuga principali falliscono a meno che lui espressamente non voglia arrivare di fronte ai giocatori i giocatori non riusciranno a mettergli le mani addosso e nel caso lui sia lì volontariamente probabilmente lo fa perché la sua vittoria è assicurata in pratica i due estremi ideologici che otteniamo sono un piano potenzialmente devastante che ha un impatto globale sull'ambientazione ma che in realtà per gli eroi è relativamente facile sconfiggere semplicemente sconfiggendo il signore del male e dall'altra parte un piano che probabilmente sarà meno spettacolare e che avrà un'influenza molto più sottile sul mondo di gioco ma che è virtualmente impossibile da sventare a meno che i giocatori non comincino a impegnarsi seriamente e diventino più astuti del signore del male stesso al suo stesso gioco se il piano di Thanos è quello che per voi come master è probabilmente il più facile da portare al tavolo ed è anche quello più facilmente comprensibile e counterabile da parte dei giocatori non necessariamente è sempre l'alternativa migliore perché porta con sé due problemi intrinsechi il primo è che rischia di rendere l'antagonista principale poco interessante per i giocatori dopo tutto se il signore del male è un maniaco il cui piano non ha senso smette di essere una grande minaccia che incombe sull'ambientazione ma diventa un personaggio nel migliore dei casi patetico perché un povero malato di mente nel peggiore dei casi virtualmente ridicolo perché quello che fa non ha senso si potrebbe certo andare a esplorare con la storia perché il signore del male è impazzito quali siano le cause dietro la sua follia però qua si corre il rischio di farlo diventare un personaggio ancora più patetico perché viene rappresentato come una povera vittima di se stesso che non è neanche responsabile delle sue azioni e a quel punto metterebbe i giocatori e i loro personaggi in un punto molto ambiguo dal punto di vista morale perché non è più la grande minaccia che deve essere fermata ma in realtà lui è la prima vittima del signore del male la prima vittima in se stesso quindi è corretto andare a uccidere o comunque incarcerare un personaggio del genere se non è responsabile ora una quest del genere potrebbe essere estremamente interessante non necessariamente però è quello che voi volete portare al tavolo soprattutto se state facendo qualcosa molto più orientato non so sull'eroic fantasy o sul super heroismo dove in realtà c'è una distinzione molto manichea tra chi sono i buoni e chi sono i cattivi il secondo è che per quanto il piano di Thanos posta a prevedere vari livelli gerarchici e varie stratificazioni di intenti è comunque a colpo singolo una volta che il signore del male avrà messo in moto il suo piano per distruggere l'universo i giocatori dovranno andarlo a fermare e o ci riusciranno o l'universo verrà distrutto in entrambi i casi la storia finisce lì non c'è una chissà quale possibilità di seguito certo il cattivo potrebbe comunque scappare poi ritornare con un nuovo piano malvagio ma questo lo renderebbe rapidamente soggetto al villain decay di questo abbiamo anche parlato in un video precedente andate a recuperare ma in poche parole rischia di farlo diventare un cattivo da cartoni animati e periodicamente appare in quest con un piano strampalato viene menato scappa e poi ritorna una sorta di comic relief più che la grande minaccia globale problema che invece non si pone col gambetto di xanatos dato che per come è costruito quel personale per il fatto che sia strategico e pianificatore che fondamentalmente tutti i suoi piani siano per lui una vittoria non solo ha palesemente senso che lui continui a ritornare ma anche il fatto che ogni volta che ritorni sia in qualche modo più potente più preparato della volta precedente diventando una minaccia che sale di livello assieme ai personaggi per usare proprio termini di andieschi e anche perfettamente razionale che sia estremamente difficile per i personaggi sconfiggerlo definitivamente proprio perché è logico che lui abbia già previsto un piano per scappare o quello che è in questo caso però il possibile problema è che se l'antagonista deve essere costruito in modo che vinca ogni volta che appaia bisogna anche trovare un modo perché lo faccia senza che però i giocatori abbiano l'impressione che quello che fanno sia inutile o che non possano in qualche modo influenzare la storia l'antagonista dovrà sempre guadagnarci qualcosa ma quello che guadagna non dovrebbe essere l'unico guadagno possibile anche i giocatori dovranno sentire che i loro personaggi hanno comunque fatto qualcosa di importante e comunque anche loro sono andati avanti con la loro storia e o ci hanno guadagnato qualcosa di importante per loro se semplicemente l'antagonista si limita ad arrivare impedire ai giocatori di fare quello che vogliono fare perché lui aveva già pianificato tutto dichiarare vittoria e poi fuggire ridendo come un maniaco molto probabilmente i giocatori si stancheranno ben presto di questa campagna perché nel caso migliore si sentiranno bullizzati dal loro antagonista nel caso peggiore si sentiranno bullizzati proprio al master stesso inserire quindi un gambetto di xanatos all'interno della vostra ambientazione richiede molta più autoanalisi e conoscenza del gioco e anche molta proprio più preparazione per fare in modo di creare una storia credibile in cui fondamentalmente tutti gli esiti che possano venire dalla storia siano diciamo un virtuale pareggio tra l'antagonista e i giocatori richiede più impegno ma sicuramente qualcosa di fattibile se ci riflettete vi prendete tempo per preparare la cosa video estremamente lungo me ne rendo conto ma non volevo spezzarlo a metà perché di questi due estremi bisogna per forza parlare assieme per se no diventava semplicemente una serie di esempi su cosa il signore del mare potrebbe fare in realtà l'importanza del discorso è proprio paragonarli l'uno con l'altro però io oramai ho parlato fin troppo quindi adesso lascio la parola a voi scrivetemi qui sotto nei commenti qual è il piano malvagio che avete organizzato contro i vostri giocatori o che il vostro master organizzato contro di voi e come siete riusciti a sconfiggerlo nel caso siete riusciti a sconfiggerlo come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivete anche a quelli nei commenti di sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo è venuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link del server di discord al gruppo i telegram dove discuto con il resto della mia community su possibili video quindi potete anche influenzare quello che succede o litigare sulla quinta edizione per il resto io sono il master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video ciao